Salve, salve, salve! Vi assicuro che suona molto meglio quando i gabbiani sono tre anziché uno solo. Ciao, gabbiano! Io sono Arf, che sta per amico, robotico, fedele. Io sono Jonathan, che sta per Jonathan! Voi cagnolini sembrate tristi? Qualcosa che non va? Sì, siamo venuti qui con Arf, ma si è bagnato e non ricorda la strada di casa. Io la ricordo e come? Davvero? Oh, ma certo! Casa dolce, casetta! Jonathan, noi parlavamo di casa nostra, non della tua. Oh, allora, beh, non so aiutarvi. Che facciamo se non riusciamo a tornare? Beh, potremmo ancora giocare a vedo. Vedo un uccello su un nido. Forse sono io? Sì! Sul serio? Ho tirato a indovinare. Ehi, Rolly, ma è un'ottima idea! Se dice a Jonathan le cose che hai visto lungo la strada, lui potrà volare a cercarle e aiutarci a tornare indietro. Vorresti dire come quelle cose verdi con le punte? Io so dove trovare delle cose verdi con le punte. Seguitemi! Sì, Arf è pronto a seguire Jonathan! Via! Vediamo cose verdi con le punte, cose verdi con le punte. Ehi, eccole una! Ci siamo! Questa qui è piena di punte. Ah! Uh! E fanno male! Ma non erano così quelle che ho visto per strada? Ah no? Uh! Ricordi se hai visto qualcos'altro? Uh! Credo di aver visto una strada a zigzag! E io vi porto a una strada a zigzag! Arf è pronto a seguirti! Ed eccoci arrivati alla strada a zigzag! Non è questa la strada che ho visto, Jonathan! Quella che ho visto venendo qui era una strada diversa! Questo sistema non sta funzionando! E Bob mi manca sempre di più! Manca anche a me! E anche ad Arf! Quindi Arf sa che Bob manca a tutti e tre! Se vogliamo tornare a casa, prima dobbiamo scendere da questa montagna! Bene! Questo Arf lo può fare! Allora pronti? Ai posti? Via! Ehi! Aspettate! Mi 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 mi! Vai Arf, così! Arf va veloce come un pulmine! E finisce dentro una galleria! Arf non vede dove stiamo andando! Come è successo? Così va meglio! Molto meglio! Hai visto una pompa di benzina ai piedi della montagna mentre venivate? No, non credo! Beh, comunque ce n'è una perché... Eccola là! Arf è arrivato! Grazie Arf, ma dobbiamo tornare a casa e non sappiamo ancora come arrivarci! Se ricordi dell'altro posso fare un giro, magari dall'alto vedo qualcosa! Non lo so, l'unica cosa che ricordo è che eravamo da Keiji e c'era il disegno di un porcellino d'India su una scatola! Era per caso un disegno come quello? Guarda! È il furgone delle consegne diretto al negozio di Keiji! Beh, allora seguiamo quel furgone! Arf è pronto a seguire il furgone! Pronti? Ai posti? Via! Grazie per l'aiuto, Jonathan! Spero di rivedervi! Molto presto! Spero di rivedervi!